Siamo Sara e Andrea e vi aspettiamo al Sardinia Festival dal 13 al 15 ottobre, il migliore evento d'Italia, Sardinia Senza al Festival! Ciao, io mi chiamo Chiara, vengo dalla Sardinia, una bellissima isola dell'Italia, amo i balli caraibici e qua è stupendo! Abbiamo un panorama internazionale che ci permette di assaporare tutti gli stili e culture di tutto il mondo! Dicevo, dalla Sardinia fantastico, bellissimo congress, bellissimo posto, bellissima gente, fantastico ballare con così tante persone, fare lo show davanti a così tante persone con così tantissimi grandi artisti, un grazie a Khalid e Naomi, grazie a Fadi, grazie a tutti quanti! Ci vediamo in Sardinia fra un paio di mesi, giusto? Ottobre! Ci vediamo in Sardinia, agua! Ciao ragazzi, ciao! È un contest micidiare, sono contentissimo dell'accoglienza fatta qui in Olanda, anche io vengo dalla Sardinia e sono molto contento della nostra squadra sarda che balla i caraibici! Non ho altro da dire che sono solo contento! Ciao ragazzi, dovete per forza venire perché se non siete venuti l'anno scorso c'è un festival sensual in Sardinia, qualcosa di terribile! Allora dovete venire perché non c'è quasi più posto! Dovete prendere la casa, dovete prendere l'appartamento, dovete prendere le camere, tutto!